Nero lucido con una lunga coda, con un suono meraviglioso, beh a patto che sui tasti ci siano dita sapienti. Il nuovo pianoforte della scuola musicale comunale di Francavilla Fontana è un piccolo grande gioiello incastonato in una delle perle più belle della città degli imperiali, quella scuola diretta dal maestro Antonio Curto, la cui stagione ci piace chiamarla così, è da poco iniziata. Tenuto conto del periodo particolare che tutti noi stiamo vivendo, lo abbiamo già fatto lo scorso anno, lo abbiamo rifatto quest'anno, i numeri peraltro sono anche in crescita rispetto allo scorso anno, fermo restando che teniamo ancora bloccati due indirizzi su quattro a livello di proposta formativa, perché abbiamo ritenuto per cautelarci, per rassicurare un po' anche le famiglie e l'incolumità dei ragazzi appunto di non avviarli, ma è un anno che promette molto bene e naturalmente dobbiamo fare molta attenzione e quindi non dare mai nulla per scontato. Perché questa è una vera e propria eccellenza, il mese scorso ho compiuto 18 anni e è arrivata a questo traguardo con numeri importanti, nel merito ovviamente di una direzione eccellente quale quella del maestro Curto e di tutto il team di professionisti. Quest'anno l'attività didattica riprende avvalendosi di uno strumento, questo che ho alle mie spalle, che è un pianoforte che siamo stati felici di procurare a questa scuola, a beneficio di tutti gli studenti e poi a beneficio anche di tutti i residenti di questo quartiere e in definitiva di tutta la comunità, perché stiamo pensando a una serie di attività a porte aperte. Tra studenti, ragazzi, talenti, cittadini e non solo, e allora ecco che quel pianoforte diventa icona di musica e di musica e di mille e mille storie suonate, perché no cantate, simbolo di uno spartito, scritto in questi anni dal maestro Curto, in continuo divenire, in splendido crescendo. Grazie a tutti.